La mattina dopo di Milan Atalanta Ovviamente non è che adesso è finita la stagione Riprenderemo con le live la prossima stagione Faremo delle live speciali dove parleremo di mercato Dove parleremo dell'anno prossimo Dove parleremo dei contratti eccetera eccetera Sempre con ospiti speciali Quindi mi raccomando passate dal link in descrizione dei nostri social Dove potete trovare anche Twitch E mi raccomando rimanete sintonizzati anche qua su Youtube Perché usciranno anche dei video Ora ragazzi che dire Finalmente dopo sette anni siamo tornati in Champions League Siamo tornati nell'Europa che conta La partita di ieri sera Atalanta-Milan 0-2 Due rigori fondamentalmente che c'erano nettissimi sacrosanti Il primo in bucata di Teo Hernandez in area tirato giù da dietro Il secondo invece su un tiro di Cerenoglo Gosens pensava di giocare a pallavolo Che sì si è fatto perdonare Dell'errore dal dischetto di Torino L'ultima volta che ha calciato due rigori Mi ricordo era Milan-Fiorentina in casa La partita che abbiamo vinto Ma lui il secondo rigore l'ha sbagliato Quindi super franco che sì Il nostro presidente E niente ragazzi che dire È stata una partita abbastanza Cioè abbastanza Tolgo il termine abbastanza È stata una partita di sofferenza pura Perché chi dice che ieri sera l'Atalanta alla fine si è scansata Dovrebbe passare all'ipica Perché ieri sera l'Atalanta ha fatto tutta la partita a pressarci Ha fatto tutta la partita ad attaccarci Secondo tempo Gasperini ha buttato dentro tutti gli attaccanti E si è stati bravi Si è stati bravi a tenere L'unica cosa che un po' non mi è piaciuta ieri sera Sono state tante disattenzioni Sotto il punto di vista di appoggi Di controlli che sbagliavamo E che l'Atalanta ripartiva Non so come fosse stata preparata Da Pioli questa partita Però così Cioè se la consideravi una finale Ok l'abbiamo vinta Per carità assolutamente bene Però senza quei due rigori saremmo stati in difficoltà Quindi Meh È una prestazione che non mi ha convinto troppo C'è anche da considerare il fatto Che comunque C'era tanta pressione addosso ai ragazzi Magari un po' di paura anche Comunque giocavamo contro l'Atalanta Nel senso Non c'è nulla da dire Anche perché appunto l'abbiamo vinta Quindi adesso ragazzi In Champions League Ci andiamo noi La Juventus Che ieri sera ha battuto 4-0 Non so tuttora il risultato della Juve Per quanto fossi felice Cioè sono felice Non me ne è fregato niente degli altri risultati E rimane fuori Sorpresa il Napoli Napoli che Ha giocato contro le riserve Delle riserve Dell'Elas Verona E ha pareggiato una Ebbè Se la sono cercata loro Detto ciò Adesso Cosa c'è da fare Adesso c'è da guardare Il rinnovo di Gigio Ora sarà L'argomento più caldo Di questi giorni qua Ci sarà da riscattare Tomori Assolutamente E vediamo E vediamo il nostro Il nostro mercato Che a parer mio Visto l'accesso alla Champions League Può Può essere Un mercato Veramente interessante Perché se ieri sera Avessimo perso Pareggiato Quello che è E non fossimo entrati In Champions League Sarebbe diventata Veramente Tosta Anche la prossima stagione Perché Appunto Non Appunto Il mercato Sarebbe stato Un bagno di sangue Perché molto probabilmente Gigio sarebbe andato via Adesso Per l'amor del cielo Non è sicuro che resti Però Mettiamo le mani avanti Sarebbe andato via Gigio Tomori Non so Si l'avresti riscattato Ma non avresti avuto Quasi più Soldi Sostanzialmente Il mercato Sarebbe stato tosto Perché non avresti Il prestigio Di giocare in Champions League Tutte le solite cose Ragazzi Quindi Un Un Cioè L'obiettivo Raggiunto E Veramente importante Aver raggiunto Questo obiettivo Perché Adesso ci si aprono Veramente Veramente Tante 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 Strate Veramente Tante strade Perché Appunto Puoi pensare Di andarti A rinforzare Bene la rosa Ovviamente Tenendo presente Il budget Che hai Però comunque Già il premio Che ti entra Arrivando In Champions League E ragazzi E ragazzi Guardate bene La classifica Arrivando anche Secondi In Serie A Noi quest'anno Siamo la seconda Squadra migliore D'Italia Ragazzi L'unica cosa L'unica cosa E che Si poteva arrivare Un po' Prima Si poteva arrivare Un po' Prima Abbiamo buttato Via un po' Di partite Vedi col Sassuolo Con la Sampdoria L'andata col Parma Col Cagliari Quindi si poteva arrivare Un po' Prima Però bene Così ragazzi Adesso appunto Rimanete sintonizzati Sui nostri social Anche su Instagram Mi raccomando Instagram Importantissimo Perché Appunto Lì metteremo Le storie Di quando andremo In live E Un'ultima cosa Che volevo dirvi Io personalmente E che Questo progetto Di Milan Inside E' nato Da un paio di mesi Mentre era già Fermato sui social Su Twitch Su Youtube E E' stato creato Pochi mesi fa Io vi devo Veramente ringraziare Per tutto il supporto Che ci state dando Mi auguro Che aumenterà E mi auguro Che la prossima stagione Saremo in tantissimi Perché appunto Dalla prossima stagione Partiremo dal giorno 1 E vedremo come va Quindi niente ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Noi ci becchiamo su Twitch Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E sempre forza a Mila Ciao ragazzi